Allora bambini abbiamo preso un'ascia e abbiamo buttato giù la porta e ci siamo trovati fiamme alte 10 metri. Una volta ho curato un alligatore di 2 metri. Io sono un'impiegata del ministero e mi occupo di buste paga. Grazie. Qual è il nostro obiettivo principale? Proteggere i cittadini senza che se ne accorgano. Stai mettendo a repentaglio 20 anni di carriera per vendicare i tuoi ex compagni di scuola? Allergie? Sono allergiche ai gamberetti. Dopo me sento morì tutta a me i gamberetti e uscichiatto. C'è bocca a bocca, arrivo a bocca, a bocca a bocca, c'è tutta a bocca. Perché tu e papà vi siete lasciati? Perché mamma e papà fanno tutti e due dei lavori troppo impegnativi. Lui sì ma tu calcoli la tratenuta da conto. Si dice ritenuta da conto. Mi scusi è un po' raffreddato. Dai ci morro c'ha sto ragazzino.